Tornano in piazza al grido di vogliamo specializzarci gli studenti di medicina, slogan striscioni e finte carte d'imbarco senza data di ritorno in cui vi sono le foto dei medici neoabilitati in Italia costretti ad emigrare all'estero. Circa 400 camici bianchi hanno invaso pacificamente Piazza Montecitorio per chiedere il diritto al futuro professionale in Italia, oggi negato, dicono, a un futuro medico su tre per la mancanza di posti nelle scuole di specializzazione, ma anche per proporre alle istituzioni soluzioni possibili. Lo Stato, per la formazione dei futuri medici, spende circa 50.000 euro a testa, aggiungono gli specializzandi, che chiedono al Governo, in particolare al Ministro della Salute Beatrice Lorenzini, a quello delle economie e delle finanze Giancarlo Paduan e a quello dell'istruzione Stefania Giannini, un intervento economico di 70-100 milioni per sanare la situazione. In fondo si tratta di mezzo F35, concludono. Per dimostrare la nostra volontà di assicurare una formazione specialistica e quindi anche una sanità di una qualità maggiore e anche una lotta al precariato. Un precariato per una classe, diciamo che potrebbe essere la classe dirigente del futuro, la classe medica, che deve preservare il bene più prezioso che ha un'intera cultura, un'intera società, che è quello della salute. La norma che manca, bensì mancano i fondi, mancano i fondi per sovvenzionare questo tipo di borse di studio, che sono borse elargite dalla Regione e dal Ministero. Vorremmo rimanere qui per specializzarci e per dare un contributo al nostro Paese.